bella a tutti ragazzi prima di andare a vedere il video voglio ricordarvi il mio codice creator xyuderone grazie mille per il vostro supporto attenzione ogni 14 giorni scade quindi non dimenticatevi di controllare se ce l'avete e ovviamente mandatemi una storia su instagram uno screen quello che volete io vi reposterò ma adesso video l'evento domani non incomincia perché non c'è un evento quanto ne sappiamo non ci sono cose che dobbiamo aspettarci ragazzi sinceramente non credo ce ne sia uno e sono molto più propenso a pensare appunto che arriverà un filmato che cambierà le varie season dalla 6 alla 7 staremo a vedere ragazzi non sappiamo assolutamente nulla terraggio alla barchetta e poi eventualmente entriamo giù a siepi piano 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 c'è il signore sulla barca subito intanto la c'è un pezzo di me non puoi risalire c***o ne fai qua ci siamo ci siamo una con calma e non c'è fretta non c'è fretta serve un po più decente io devo comunque fare le pistole mi servono degli ingranaggi riusciamo da qua prendiamo gli ingranaggi vediamo come fare dovrebbe esserci nessuno mai più ingranaggi possibili grazie buono così hanno fulminato la taglia non mi serve portare l'impulso l'arco basta 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 si chiama le pistole sarà un po dura ragazzi sarà un po dura ma le troviamo e vinciamo anche il game eccola eccola trasformala easy easy manca una piano 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 non vi preoccupate buongiorno io sto bene ragazzi io sto bene spero che anche voi state bene e spero che finalmente un po di hype visti a salendo ragazzi dai un po di hype ci sta non abbiamo ancora lì che ragazzi domani vivremo e vedremo tutti assieme niente non ci sono più pistole sono potenzione a pistola partita o non penso che la puoi potenziare mi manca un osso qua dovrebbe darmi un osso secondo me secondo me la conta no non ci credo mi dai ma ecco qui questo bug va fixato assolutamente non puoi prendere un osso e vi incastrano dentro un veicolo ma che vuol dire andiamo distanza percorre in un veicolo 499 mila otto e 72 su mezzo milione ma signore suonare 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 mi ha fatto un po di pressure andiamo la skill mi ha trasformato mi casca nel buffo questa sono forte ragazzi piano 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 eroer ci stava ci stava ci stava potrebbe essere ancora gente potrebbero anche guardare sul sul ponte piano 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 macchina ma grazie grazie un momento sto pensando eh grazie oh grazie ok 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti